Sono felicissimo di avervi tutti qui per questa opera che è stata realizzata dall'amministrazione con il nostro aiuto e con il nostro volere e devo ringraziare tutti gli amici Generoso, Eva, Francesco, Michele Vizzulo, Andrò in Respetto perché tutti noi abbiamo voluto la realizzazione nel ricordo del nostro caro amico di questa bellissima struttura e ve l'ho detto sono un po' emozionato perché far vivere un ricordo è importantissimo nel cuore di tutti noi di una persona straordinaria a cui eravamo tutti affezionati scusate l'emozione scopriamo il mio amico del nostro caro amico e grazie a tutti per la partecipazione Grazie 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 Speriamo appunto che questo anno di Padre faccia crescere nuovi sportivi, non solo di una resa a carta, ma di un lavoro. So fascinating, I can't remember the last time I was born, I don't wanna know what would have happened if I never had had your love, I don't even become myself before I met you, I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love, everything about you, I like. How does it keep getting better? Every day are the fights under way to grow, the time we spend together is good. How does it keep getting better? Every day are the fights under way to grow, the time we spend together, simply feels good. We got nothing going.